verrà l'improvviso il signora sapete chi sarà pronto coloro che stanno rivolgendo questa preghiera vieni signore gesù noi vogliamo stare nel tuo regno e io non vedo l'ora che quel regno sia stabilito perché allora regnerà la giustizia perché allora non ci sarà più il peccato allora non ci sarà più la sofferenza non ci sarà più il cordoglio non ci sarà più la morte questo tempo che rimane prima della venuta di cristo lo vogliamo consacrare al signore vogliamo lavare le nostre vesti dice ancora la chiesa si vengo presto e noi vogliamo dire fratelli e sorelle signore vieni sono pronto oggi c'è speranza di salvezza nel nome di cristo gesù l'apostolo paolo filippesi capitolo 1 verso 21 dice per me vivere cristo e morire è un guadagno e finché io vivrò la mia vita significa cristo è per cristo è in cristo c'è un prezzo e questo prezzo non è una perdita ma è un guadagno quello che ci chiama fare il signore in questa vita terrena è rinunciare a ciò che si chiama peccato non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo vieni dicono lo spirito e la sposa lo spirito ci spinge ad annunciare questa verità con forza venite lavate le vostre vesti perché il re dei re il signore dei signori sta tornando